Allora ragazzi, questo è un test fatto con Camtasia Allora, sto cercando di vedere un pochettino i volumi, queste cose qua, mentre li posso mettere dopo Quindi ho spostato tutto, sto provando un pochettino, sto parlando piano perché sono le due e mezza di notte E volevo anche provare a fare una cosa, cioè a cambiare posizione E quindi a giocare in questo modo In questo modo dovrebbe essere un pochettino più alta la voce Io forse sto un po' più scomodo però Pare che girata solo sto coso Ciao tizio Questo ovviamente non è la mia mappa Anche se il posto è figo Avete notato quanto va veloce? Bene, questo è quello che arriverà sul canale Su questo canale, a breve Quindi forse si riprenderà exit Vediamo un pochettino anche i suoni Voi fate finta che questo video non l'avete visto E perché è solo un test? Perché voglio vedere anche quanto occupa e quanto ci mette a caricarlo su YouTube Quindi ragazzi ci vediamo Anzi, devo fare una prova Mettiamo in pausa Ok, la pausa sembra funzionare Riproviamo Perfetto, devo solo trovare una combinazione di tasti un po' più comoda da avere insomma Questo mi ucciderà sicuramente Ragazzi lo faccio per voi Lo faccio per voi Muori Ecco, ha laggato Non ho manco finito di dire che andava meglio Vabbè lagga però il framerate è proprio un altro mondo Ok, morirò io Morirò io lui? Morto lui Vabbè ragazzi Questa era solo una prova Quindi ci vediamo presto con tanti nuovi video Questo video penso che verrà cancellato abbastanza presto Ciao!